Ok ragazzi, il 75% dei russi supporta Vladimir Putin e l'invasione in Ucraina, mentre viceversa, esclusa l'Italia, che è un caso un pochino particolare e patologico, il 75% degli europei supporta l'Ucraina. E a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? Nella stragrande maggioranza dell'Europa il problema non si pone minimamente, perché i russi sono realmente una sparuta minoranza. In Italia, per esempio, nel 2020-2021 risultavano residenti circa 54.000 russi su oltre 60 milioni di abitanti. Ed in Francia, sempre per esempio e nello stesso periodo di tempo, risultano residenti circa 200.000 russi. Il problema invece si pone nei paesi baltici, dove i residenti russi di lungo corso sono circa il 26% in Estonia, il 27% in Lettonia e lo 0,8% in Lituania. Insomma, in due nazioni su tre, poco più di una persona su quattro è russa e o russofona. E così, oltre alle tensioni che erano già presenti in queste nazioni per ragioni storiche, Putin possa attaccare militarmente gli stati baltici per tutelare le minoranze russe, sfruttando così lo stesso pretesto che ha dato origine alla guerra in Ucraina. Ma procediamo con ordine. Alla fine della seconda guerra mondiale, con la schiacciante vittoria dell'Unione Sovietica contro l'ex alleato tedesco, i paesi baltici sono diventati delle repubbliche sovietiche. E magari un congruo numero di abitanti di queste nuove repubbliche sovietiche è stato anche entusiasta della cosa, perché fino al giorno precedente Stalin aveva portato avanti la politica detta di indigenizzazione. Indigi, indige, ind, indigenizza, na, indigenizzazione. C'è, c'è, c'è! Stalin aveva portato avanti una politica di indigenizzazione, ovvero tendeva a preservare le varie culture creando uno stato federale laddove ogni cultura aveva dei suoi rappresentanti. Ma dopo la guerra Stalin, che era particolarmente vendicativo, cambiò modus operandi. Partendo dal presupposto che le popolazioni sotto il gioco nazista fossero naziste a loro volta e non meritassero nulla, iniziò a deportare i residenti di queste nuove repubbliche come se non ci fosse un domani. In pratica Stalin, fra il 1946 e il 1953, deportò sportivamente 95.000 estoni, 125.000 lettoni e 310.000 lituani. E contemporaneamente, grazie anche ai piani di industrializzazione di dette repubbliche, Stalin corse l'occasione per trasferire decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di russi. Questo tipo di politica, come potete ben immaginare, dopo la caduta del muro e il crollo dell'Unione Sovietica, ha portato i governi di queste repubbliche baltiche a essere leggerissimamente diffidenti verso gli stranieri, soprattutto quelli di lingua russa. Infatti, in due repubbliche su tre, puoi ottenere la cittadinanza di dette repubbliche soltanto se riesci a dimostrare che uno dei tuoi parenti era residente in dette repubbliche prima degli anni 40. In ogni caso, il numero di russofoni è in costante diminuzione nei paesi baltici. Infatti, i russi, essendo una minoranza, hanno la tendenza a venire assimilati oppure ancora molto banalmente emigrano. Alcuni passano nella federazione russa, molti altri cercano la fortuna ad ovest. In ogni caso, come ripeto, i rapporti fra popolazione indigena e russi sono notevolmente peggiorati dal 2014, ovvero da quando Putin ha deciso di occupare il Donbass con i suoi ommini verdi senza contrassegni. Sì, erano verdi e senza contrassegni, ma utilizzavano equipaggiamenti ed armamenti russi e dicevano di voler difendere i russofoni. Quindi è chiaro che all'estero ci si è preoccupati un pochino. Soprattutto in nazioni come l'Estonia, dove circa 80.000 russi non sono riusciti neanche a passare l'esame di lingua locale. E naturalmente tutte queste persone, che non sono estoni, hanno diritto sì a un passaporto, ma è un passaporto diverso rispetto a quello estone. È un passaporto estone per alieni, o meglio, per stranieri. Ed in Lettonia ci sono almeno altri 40.000 russi nella stessa situazione. Detto terra-terra, i russi delle Repubbliche Baltiche sono il gruppo di apolidi più grande del mondo. Possono pagare le tasse, e ti pareva. Possono usufruire dei servizi messi a disposizione dello Stato, ma assolutamente non possono votare né partecipare alla vita politica dello Stato. Oltre a ciò, gli apolidi russi hanno la tendenza a guadagnare molto meno rispetto alle proprie controparti indigene, e anche la durata della loro vita è mediamente più bassa rispetto a quella di Estoni, Lettoni e Rituali. Lo scoppio della guerra vera e propria fra Russia e Ucraina nel 2022 ha peggiorato ulteriormente le cose per i residenti russi. Visto che Putin ha aggredito l'Ucraina utilizzando come scusa la tutela dei russofoni, nelle Repubbliche Baltiche, in Lettonia in particolare, si è pensato bene di limitare al minimo l'utilizzo della lingua russa. Anzi, per quanto è possibile, si è pensato bene di eradicarla dalla nazione. Nel 2022 si è fatta passare una legge che presenterebbe qualche profilo di incostituzionalità ai nostri occhi. Sostanzialmente dal 2025 il russo non sarà più insegnato nelle scuole e non si potrà più parlare russo negli uffici pubblici. E fin qui va tutto bene. D'altronde, neanche se vai negli Stati Uniti, puoi pretendere di compilare i moduli amministrativi in italiano. Devi farlo in inglese. Il problema sembra risiedere nel fatto che in Lettonia è davvero vietato insegnare il russo, il che fa leggerissimamente appugni con i diritti fondamentali umani. Peraltro, partendo da questo presupposto, si considerano tutti i russi come dei nemici, quando magari non è assolutamente vero e ci sono molti russi o comunque un buon numero di essi che si oppone al governo di Putin. Inoltre, per limitare al minimo l'influenza della propaganda russa, nei paesi baltici hanno tolto la licenza per le trasmissioni a tutte le televisioni russe. Oltretutto, in Lettonia hanno deciso che i russi e soltanto i russi, per continuare a permanere nel loro territorio, dovranno passare un esame di lingua estone. Se non ce la faranno, verranno espulsi. Il che è leggerissimamente discriminatorio ed è contrario ai principi delle Nazioni Unite, dove per l'appunto qualcuno ha pensato bene di tutelare le minoranze russe. Oltre a ciò, nelle Repubbliche Baltiche si è iniziato a demolire e distruggere metodicamente tutti i monumenti eretti e installati durante il periodo sovietico. Insomma, la politica baltica è semplice, crudele ed efficace. Visto che Vladimir Putin e la Federazione Russa affermano di poter occupare e annettere altre nazioni perché ci sono dei russofoni, quello che fai per evitare tutto ciò, molto banalmente, è allontanare i russofoni da queste nazioni e cancellare il ricordo di aver fatto parte dell'Unione Sovietica, e cioè della Grande Russia. Sì, gli storici questa frase non la proveranno, ma spero che capiate il senso. Insomma, nelle Repubbliche Baltiche si teme di avere un problema di sicurezza, perché in almeno due Repubbliche su tre i russi sono ancora pesantemente condizionati dalla madrepatria. In Estonia, invece, si è dato asilo a molti dissidenti russi, i quali hanno aperto dei mezzi di comunicazione in lingua russa e i danni e la propaganda di Vladimir Putin penetrano solo fino a un certo punto. Ma la paura è davvero tante. Anche perché storicamente i russofoni sono sempre stati inclini alla secessione dalle Repubbliche Baltiche. Esemplificativamente, circa 30 anni fa, nel 1993, gli abitanti, principalmente russi nella città di Narva, indirono un referendum e votarono quasi all'unanimità, circa il 97%, a favore della secessione della città dall'Estonia per unirsi alla madrepatria russa. Insomma, oltre a Vladimir Putin, i paesi baltici dovranno vedersela anche con gli alleati europei, ma soprattutto con le Nazioni Unite, le quali hanno contestato principalmente una violazione dei diritti del fanciullo e dei diritti fondamentali di una persona, proprio perché, secondo le Nazioni Unite, è illegale impedire a qualcuno di esprimersi nella propria lingua. Le Repubbliche Baltiche hanno fatto sapere che, in realtà, secondo loro, non c'è alcuna violazione. Infatti, nessuna regola impone di insegnare in tutte le lingue di tutte le minoranze e, comunque, il russo può essere tranquillamente utilizzato a livello privato. Personalmente, quello che mi lascia più perplesso è il fatto che sia vietato l'insegnamento del russo. Intendo dire, è legittimo che la scuola lituana, estone e lettone non insegni il russo come seconda lingua, ma puoi davvero impedire a una scuola privata di insegnarlo? O a qualcuno di dare ripetizioni in russo o di scrivere un libro in russo? Personalmente ritengo di no, ma prima di puntare il dito contro le Repubbliche Baltiche dovremmo avere sotto mano il testo completo e tradotto di queste leggi perché noi ci stiamo basando, per questa valutazione, su quanto è stato riportato da fonti di stampa e le fonti di stampa, si sa, ogni tanto prendono delle cantonate. Vi ricordate, per esempio, quell'inesistente decreto di Zelensky per non trattare con Vladimir Putin? Per l'appunto, e voi che cosa ne pensate di tutta questa storia? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piace questo canale, ricordatevi di iscrivervi, attivare la campanella, condividerne i contenuti perché ha necessità di crescere e naturalmente mettere il mi piace. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto. E naturalmente, se non farete tutto questo, correrete il rischio di beccarvi un raffreddore potente e disturbante, almeno quanto il mio. Io vi ho avvisati. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.